Dall'alba al tramonto, dalla preparazione del campo al raccolto, L'opera tenace dell'agricoltore non conosce soste, lo sa bene Deutz-Fahrt, che tiene da sempre in gran considerazione tempi e logiche del mondo agricolo. Deutz-Fahrt, infatti, si dedica solo e totalmente all'agricoltura, progettando e costruendo macchine che aiutino l'uomo a vivere nel miglior modo possibile il proprio tempo lavoro e a raggiungere livelli sempre più alti di produttività. Oggi Deutz-Fahrt, presente nel mondo con una organizzazione di vendita e di assistenza capillare, è parte costitutiva del Same Deutz-Fahrt Group, che si colloca tra i primi costruttori europei e nel ristretto gruppo dei produttori globali. La produzione del gruppo spazia dal polo produttivo integrato di Lauingen fino alla specializzata produzione di trattorini in Polonia. Deutz-Fahrt, infatti, offre una full line all'avanguardia di soluzioni per l'agricoltura. Dai potenti trattori alle imponenti mietitrebbie, dalla vastissima gamma di attrezzi alle macchine per il raccolto, nate per andare incontro alle condizioni di lavoro più disparate. Non c'è luogo, stagione o tipo di lavorazione che le macchine Deutz-Fahrt non sappiano affrontare. Perché è dal 1864 che migliaia di uomini vivono e lavorano per questo. La storia della Deutz-Fahrt ha radici lontane. Nell'opera ingegnosa di due uomini, Otto e Langen, che nel 1864 fondano la prima fabbrica di motori al mondo. Ma soprattutto ha al suo attivo un enorme patrimonio di tecnologia, affidabilità e di innovazioni, che hanno cambiato la storia dell'agricoltura, come il primo motore diesel Deutz raffreddato ad aria e la trattrice agricola Deutz, primo trattore al mondo ad essere prodotto in serie. Un patrimonio che ha scritto la storia della meccanizzazione agricola e ha pilotato l'epoca della ripresa economica europea. Nel 1968 nasce il marchio Deutz-Fahrt, che nel 1970 acquisisce la fabbrica per macchine agricole Ködel & Baum di La Wingen, storica produttrice di Mieti Trebbie. Oggi Deutz-Fahrt continua a ricoprire un ruolo di leadership, offrendo una full line di prodotti costantemente in anticipo sulle richieste del mercato e sempre più vicina alle esigenze degli operatori finali. Anche questa è un'importante ragione di successo. Le caratteristiche fondamentali del successo dei prodotti Deutz-Fahrt risiedono negli obiettivi dell'azienda. Tradurre i contenuti tecnologici dell'ampia gamma di prodotti in vantaggi concreti per l'agricoltore. La sfida continua dei progettisti Deutz-Fahrt è infatti quella di coniugare la potenza con versatilità e maneggevolezza, l'impiego di dispositivi elettronici all'avanguardia con la semplicità d'uso, la possibilità di fare il lavoro nel minor tempo possibile con la certezza di farlo al meglio, la solidità con il design. Sì, anche il design ha la sua importanza. Oggi lo styling dei prodotti Deutz-Fahrt è affidato a grandi designer internazionali, uno stile insignito nel 1996 dall'Industrial Design Excellence Awards, uno stile che non ha solo finalità estetiche, ma persegue la massima funzionalità e un comfort superiore. Basta dare un'occhiata alla cabina. Una postazione di lavoro estremamente avvolgente e confortevole con una visibilità record e tutti i comandi disposti razionalmente secondo i più avanzati criteri ergonomici per ottimizzare l'operatività. Tutti i modelli Deutz-Fahrt sono equipaggiati con motori Deutz dell'ultima generazione, la cui potenza e affidabilità contribuiscono a tenere alti gli standard di redditività. E' questa la parola chiave della full line Deutz-Fahrt in cui spiccano le grandi macchine da raccolta simmoventi come Power Press e Trincia Mais e le potenti mietitrebbie della gamma Top Liner capaci di adattarsi ai terreni più vari. Migliorare i tempi Per Deutz-Fahrt significa anche limitare i consumi e le emissioni nocive per l'ambiente attraverso l'utilizzo di combustibili e lubrificanti ecologici. Migliorare i tempi vuol dire assicurare una presenza continua e interventi tempestivi. Grazie alla presenza capillare sul territorio di filiali dirette e all'utilizzo di un service elettronico che sfrutta la connessione online con i concessionari per l'ordine dei pezzi di ricambio, l'agricoltore sa di poter contare in qualsiasi momento su risposte puntuali a tutti i suoi bisogni. I trattori e le mietitrebbie Deutz-Fahrt sono progettati, costruiti e testati in casa sulla base di una solida esperienza che anno dopo anno ha costruito il successo di questi prodotti. I processi produttivi consentono di controllare la macchina in ogni fase della produzione attraverso continui scambi di input tra i campi di utilizzo e le linee di lavorazione. È questa la prima garanzia di una qualità made in Germany riconosciuta in tutto il mondo. Una qualità totale, certificata con l'ISO 9001 e garantita da un'attenta valorizzazione delle risorse umane. Se infatti l'azienda ricorre a tecnologie d'avanguardia per sveltire i processi più ripetitivi, agli uomini lascia i compiti più cruciali. L'ideazione, la programmazione e il controllo delle linee di automazione, le opere di finitura più delicate, i collaudi, la sperimentazione. Uomini scelti con cura e aggiornati di continuo con corsi e strumenti avanzati sono il patrimonio su cui si fonda una progettualità alla continua ricerca del meglio. Precorrere i tempi significa soprattutto anticipare i bisogni. Ai team che lavorano in fabbrica, infatti, Deutz-Fahr affianca tecnici presenti sul campo, pronti a registrare ogni minimo cambiamento nel mondo agricolo, a sondare le aspettative degli agricoltori per proporgli soluzioni su misura. La produzione è infatti strutturata per adattarsi in tempi brevi alle richieste. Lo dimostrano i numeri. Le circa 10.000 macchine che escono ogni anno dalla fabbrica sono prodotte in migliaia di versioni diverse. Deutz-Fahr dedica molte energie ad avvicinare sempre più la tecnologia all'agricoltore, non solo fornendogli soluzioni all'avanguardia semplici da usare, ma anche invitandola a corsi di aggiornamento sulle macchine che sceglie. Il concetto di tecnologia accessibile è infatti un punto cruciale nella filosofia Deutz-Fahr. È scritto nella sua storia e guiderà la crescita futura. Il concetto di tecnologia all'agricoltore, il concetto di tecnologia all'agricoltore,